SEMMAFORO 10 5 4 3 2 1 40 destra 4 vai 30 sinistra 1 in destra 1 gira e vai 50 destra 5 vai in sinistra 5 vai in destra 4 diventa 3 in sinistra 3 40 destra 5 vai 40 vai 40 destra 2 vai 50 a vista sfiora sinistra vai 50 sinistra 4 vai e non tagliare 40 sinistra 2 e vai 60 destra 5 diventa 4 2 tempi 120 destra 3 60 destra 2 sale 50 sinistra 3 vai e stai a sinistra 60 sinistra 60 destra 5 e subito sinistra 1 gira no 50 destra 1 sfoga e vai sinistra 4 lunga lunga lo stop tornando a sinistro per destra 3 gira 3 gira 50 destra destra 5 sotto in sinistra 5 vai 50 destra 5 50 sfiora destra in sinistra 3 e subito destra 1 e si esce 30 sinistra destra no e vai 40 sfiora destra e sinistra 20 tornate sinistro 100 ok e ti sei impastizzato in qualche tornante eh ti sei impastizzato in qualche tornante